salve a tutti ragazzi e benvenuti su soluzioni pc oggi parleremo di audio e in particolare dei problemi audio in riproduzione e registrazione per esempio se comprate un microfono lo collegate e non riuscite a sentire la vostra voce registrata oppure se avete collegato le casse e installato i driver e comunque non si sente nessun suono comunque vi anticipo che questo tutorial è valido per windows vista windows 7 e anche windows 8 andiamo subito a vedere dove operare in basso a destra vicino all'orologio c'è un'icona a forma di altoparlante se ci clicco con il pulsante sinistro aprirò la regolazione del volume se ci clicco invece con il tasto destra aprirò un menu a tendina dove andremo a cliccare dispositivi di riproduzione o dispositivi di registrazione a seconda di ciò che ci interessa per adesso andiamo su dispositivi di riproduzione ok sulla scheda riproduzione che è questa qui abbiamo l'elenco di tutti i dispositivi per la riproduzione installati il mio è attualmente cuffie con microfono non per forza devono essere collegati come in questo caso ma comunque sono installati e correttamente con il loro driver a sia ben chiaro questo è il mio dispositivo predefinito perché ha il bollino verde e io ho cliccato su predefinito per selezionarlo come tale quindi se vi capita che il vostro audio non viene riprodotto questo è il primo posto dove andare a guardare e controllare se l'uscita audio predefinita è quella in cui volete che l'audio venga riprodotto stessa cosa vale per la registrazione andiamo sulla scheda registrazione e qui come al solito vediamo tutti i dispositivi installati e come prima io ho predefinito cuffie con microfono ma se io volessi cambiare dispositivo di registrazione mi basta selezionarne un altro e poi premere predefinito vi ricordo che se il vostro dispositivo non è in elenco probabilmente i driver non sono correttamente installati oppure avete semplicemente sbagliato buco detto questo vi saluto per qualsiasi dubbio scrivetemi nei commenti e lasciate un mi piace un salutone da soluzioni pc grazie